Ciao ragazzi, volevo fare questo video da tanto, però il Raspberry non l'ho comprato e ora vi spiego perché. Questo video è sponsorizzato da me stesso. Se ogni tanto incappi per sbaglio in un mio video ma ti sembra troppo tecnico e vorresti capirci di più, da un'occhiata ai miei corsi. Troverai oltre 24 ore di lezione, tutto minuziosamente suddiviso in moduli, con test di apprendimento e dispense aggiuntive. Link in descrizione. Alcuni di voi ricorderanno che il Raspberry P inizialmente, il modello 1 storico, nacque come progetto per portare un microcomputer a un costo irrisorio alla portata di tutti, principalmente per l'utilizzo didattico. Ma questo nuovo Raspberry P4 mette in tavola delle prestazioni che non si sono mai viste nel mondo Raspberry. Sebbene io sia un fan dell'architettura ARM con tutti i vantaggi che porta, specialmente a livello energetico, penso sia il caso non farsi però prendere dall'entusiasmo quando si considera un Raspberry P4 come un sostitutivo di un computer desktop economico. Perché sì, sembra essere un po' questo il focus di Raspberry P4, cercare di inserirsi finalmente in una categoria però tutta sua della fascia del basso prezzo in un formato micro, diciamo. Al di là di quello che gli altri dicono, a riprova di questo abbiamo alcuni indizi come l'adozione di due porte micro HDMI e la porta USB-C per l'alimentazione, cosa che devo dire ultimamente sono molto contento perché tutti i miei dispositivi si stanno adeguando a USB-C e portarsi indietro ancora cavi diversi è un po' una scocciatura. Questa USB-C però è un importante indizio su quella che è la direzione del dispositivo insieme all'uscita dual display. Il motivo per cui hanno montato una USB-C al posto della vecchia micro USB 2.0 è proprio che la USB-C può portare più dati ma soprattutto più corrente. Ora il problema sono le temperature. Come c'era da aspettarselo il Raspberry P4 incrementa ulteriormente il calore. Questa è una foto termica del Raspberry 3 che già è conosciuto per avere problemi di surriscaldamento e qui abbiamo una foto termica del Raspberry P4. L'articolo parla di un aumento della temperatura massima da 63 gradi per il Raspberry P3 a 74 gradi per il Raspberry P4. La cosa naturalmente è accompagnata da consumi maggiori, molto maggiori rispetto ad alcuni modelli, abbastanza maggiori rispetto al Raspberry P3. Se diamo un'occhiata a questa immagine con una comparison sui consumi energetici, uno dei miei modelli preferiti, il Raspberry P0W, sta intorno agli 1-1.8 watt, comunque sicuramente sotto ai 2 watt, veramente una sciocchezza anche a pieno carico. Mentre se parliamo del Raspberry P3, che già era conosciuto per essere parecchio problematico dal punto di vista delle temperature e dell'alimentazione, siamo a circa 3 watt in idle senza fare niente e oltre ai 6 watt sotto pieno carico. Ora non sto dicendo che il Raspberry P4 abbia un aumento di consumi ancora maggiore in maniera del tutto ingiustificata. Intendiamoci, in proporzione ai consumi, che comunque sono abbastanza più alti, le prestazioni sono decisamente più alte, risultando in dei benchmark che letteralmente spazzano via tutti i suoi predecessori, sia in termini di CPU, sia in termini di memoria e attenzione, attenzione, prestazioni del browser. Da questo benchmark si capisce che il Raspberry P4 è chiaramente molto superiore ai suoi predecessori anche in termini di usabilità e non fa così strano che molti ne parlino come un possibile sostituto per un PC economico, si intende molto economico, per la navigazione general purpose. E leggendo tutti questi dati sono giunto alla conclusione che il Raspberry P4 sia tutto sommato un fantastico microcomputer. Però poi ho visto video su YouTube nell'utilizzo di tutti i giorni su come effettivamente questo dispositivo se la cava e lasciate che ve lo dica. Tutte queste recensioni, tutti questi recensori tendono un po' a fare overselling, tendono un po' a parlare troppo bene di qualcosa che non è sempre così fantastico. Nell'uso quotidiano con un browser, con un file manager, ok è più fluido dei suoi predecessori, ma non mi sembra che se ne possa parlare come un dispositivo sostitutivo di un computer desktop, anche solo di fascia bassissima. Sia in termini di fluidità che in termini di completezza del parco software, specialmente quando parliamo di browser ed estensioni, ci siamo quasi, però pensandoci bene, qualunque telefono o tablet garantisce già un'esperienza di navigazione molto migliore di quella che ci offrirebbe un Raspberry P4 con Raspbian. E così viene da chiedersi, ma questo dispositivo per chi è? E per aiutarvi a decidere se comprarlo oppure no, se ne avete davvero bisogno oppure non ha senso come acquisto, ho stilato un elenco di scenari in cui questo nuovo Raspberry performerebbe fantasticamente, andando a riempire degli effettivi buchi che i suoi predecessori lasciavano, ma anche altrettanti scenari in cui questo Raspberry non avrebbe troppo senso. Al primo posto metterei la computer vision e le applicazioni in real time, magari con OpenCV. Questo è un ambito molto in voga in cui è davvero critico avere un package piccolo, da poter montare ad esempio sulle automobili, ma più in generale su sistemi in movimento, ma comunque con poco spazio circostante. E questo tipo di applicazioni è letteralmente affamato di CPU, quindi the more, the better. Più potenza, meglio è. Insieme a questo chiaramente mi viene in mente anche l'ambito DVR, telecamere di sorveglianza. Ora ricordo che con i modelli precedenti più di una o due telecamere di sorveglianza non era davvero possibile attaccare, perché poi non ci stava dietro. Questo Raspberry P4 però ce lo vedo bene a gestire anche quattro flussi video in contemporanea e magari mandare l'output su uno o due schermi in tempo reale come fosse appunto un DVR professionale. E sempre perché ho parlato di schermi mi viene in mente il Media Center. Con due uscite in HDMI fino a 4K, nell'ambito Media Center questo dispositivo rende benissimo. Un'altra cosa di cui non avevo ancora accennato è la porta Ethernet. Finalmente, e io l'ho voluto per tanti anni, hanno separato il bus della porta USB con il bus della porta Ethernet. Ora abbiamo USB 3.0 e Gigabit Ethernet. E sapete cosa vuol dire questo? Web server, ma soprattutto NAS. Finalmente potremo usare Raspberry per condividere file in rete con velocità di trasferimento accettabili. E infine vediamo gli usi meno plausibili per questo dispositivo, per quanto ambizioso esso sia. Prima di tutto il desktop. Come ho già detto, l'esperienza di navigazione è migliore su qualsiasi tablet o smartphone ormai in commercio, anche di bassa fascia. Il fatto di avere un'impostazione da desktop con una tastiera e un touchpad non fa poi tanta differenza quando su un qualunque tablet Android possiamo comunque collegare una tastiera e un touchpad allo stesso modo. Per il fatto che questo dispositivo tende a surriscaldare moltissimo, non lo vedo per niente adatto neanche a sistemi e applicazioni embedded che includano condizioni ambientali non ottimali. Ad esempio in uno scatolo sotto il sole ad agosto, ma anche molto meno, anche solo in uno scatolo chiuso senza dissipatore, anche solo in macchina sotto il sedile. Non ce lo metterei perché 75 gradi in full load è un po' troppo. E naturalmente con il surriscaldamento arrivano consumi più elevati. Si parla di 7 watt e mezzo, qualcosa che sicuramente fa la differenza se dovete usare un powerbank. Ora notoriamente tutti questi raspberry sono sempre stati utilizzati in gran parte anche per applicazioni IoT, Internet of Things, dove fattori come la temperatura e i consumi sono rilevanti. Mentre la potenza di calcolo non lo è poi così tanto perché si basano principalmente sullo scambio di messaggi tramite Internet. Quindi ha senso comprare un Raspberry P4 come upgrade? Vi direi no, a meno che il vostro Raspberry P3 non sia troppo lento per l'applicazione che dovete eseguire. Ma se mi chiedete ha senso comprarlo come unico Raspberry perché non ne ho altri e sarebbe il primo? Assolutamente sì perché è un ottimo dispositivo ed è migliore dei suoi predecessori in ogni senso. Con l'unica postilla però che se non avete bisogno di cose CPU intensive, di applicazioni particolarmente pesanti, io personalmente comprerei un P0 perché è piccolo, costa poco e consuma niente. Detto questo spero di avervi chiarito un po' le idee e spero di non aver pubblicato questo video troppo tardi quando magari l'avete già comprato sta arrivando e ve ne pentite ma sono sicuro di no. Ditemi che ne pensate. Ah e poi qua dovrei dire qualche cazzata che vi convinca iscrivervi e mettere mi piace credo. Vabbè.